La CISL Funzione Pubblica chiede alla Regione Abruzzo di affrontare con rapidità le problematiche strutturali e organizzative dei centri per l'impiego a seguito della legge di stabilità che ha previsto il passaggio del personale in forze centri per l'impiego alla Regione. Abbiamo centri per l'impiego che non riescono a dare risposte sul territorio abruzzese in quanto sono carente di risorse umane e di professionalità necessarie per rispondere agli utenti, soprattutto nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Sulla situazione dell'Aquila c'è personale sufficiente però manca una organizzazione e un coordinamento di tutti i centri per l'impiego. Aggiungiamo a questo che il governo ha posto i centri per l'impiego come punto di snodo per il reddito di cittadinanza ma con questa situazione drammatica organizzativa certamente non ci possono essere risposte. Sale un grido di dolore da parte dei colleghi che lavorano nei centri per l'impiego che sono sforniti di tutto, non vengono ascoltati, mancano delle PEC, mancano dei timbri, mancano anche delle minime attrezzature per poter far fronte alle esigenze dell'utenza che si rivolge loro quotidianamente. Questo è insostenibile ormai. A distanza di sei mesi la regione non ha raccolto le istanze che pervengono da questi lavoratori e comunque il problema si propone sempre più gravemente perché l'utenza è completamente lasciata all'abbandono.